Chiara Rumori, esordio stagionale con la maglia della Zambelli Orvieto, era qualche mese che non ritrovavi le sensazioni del campo, come ti sei trovata? Ma sicuramente ritornare in campo è stato veramente uno sprono comunque e non sono entrata nel mio ruolo ma comunque ho cercato di fare il possibile perché avevo tanta voglia comunque di entrare e di far bene per aiutare anche le mie compagne è stato un po' inaspettato però sono stata molto contenta di entrare Non la maglia di colore diverso ma quella classica della Tigri-Rupestri, giallo e verde è un Orvieto che comunque continua a convincere, è una squadra che hai trovato con tante pedine forti Sicuramente è una bellissima squadra dove ci sono ragazze veramente forti che hanno fatto anche molta esperienza ad alti livelli e mi trovo molto bene perché si lavora veramente tanto e con tanta voglia seguendo un obiettivo sicuramente tutte insieme E tu invece a livello personale quali obiettivi ti poni in questo finale di stagione? Allora sicuramente... Trappare il posto a Rocchi? No, sicuramente prendere comunque dalle ragazze più esperte i consigli, tutto quello che mi dicono e poi cercare comunque di migliorarmi anche un miglioramento personale che aiuti magari in certe situazioni anche la squadra Come vedi questo campionato? Orvieto ce la può fare? Sì, ce la può fare sempre mettendo però quella grinta che comunque ci contraddistingue e poi sicuramente è un campionato abbastanza complesso dove molte squadre si sono rivelate insomma squadre molto difficili da affrontare però secondo me con la convinzione ce la possiamo fare Grazie Grazie